Alleluia, ora pro nobis, se qualcuno ha qualcosa da dire, lo dica adesso, taccia per sempre. Scusa è tanto che lo devo dire, ti ho protetta da un dolore, ma è arrivato ormai il momento, siedi pure, sono pronto, temo che non saprai perdonare questa mia risoluzione. Tu che dici sconveniente è il mio portamento, ti prego prova almeno ad accettare il mio sentire, non è una scelta né una decisione. Premetto che è un'urgenza e che la voglio assecondare, ma lo farò con discrezione. Mamma, ti devo dire una cosa, so che è complicato da accettare, ma credo di essere eterosessuale. Oi mamma, spero tu non mi abbia male, di certo il mondo ti potrà crollare, ma io sono eterosessuale. E che ci posso fare? Ascolta. Cara mamma, il mondo può cambiare e non puoi frenare l'amore, oggi sai ci si frequenta, in esterna o al cellulare. Come il tanga, geniale invenzione della tua generazione. Oh ma che rivoluzione, ci puoi volare. Ti servirà del tempo, devi metabolizzare, chi siamo noi per dire che è un errore. Eppure Luca lo scriveva a Pobia per cantare, lui sta con lei con discrezione. E poi mamma, ti devo dire una cosa, so che è complicato da accettare, ma credo di essere eterosessuale. Oi mamma, spero tu non mi abbia male, di certo il mondo ti potrà crollare, ma io sono eterosessuale. Non esiste lente che ci possa assicurare la visione, un fiore, un fiore, un fiore. Pensa se il destino si diverte per un giorno, a regalarci un'inversione. E poi mamma, spero tu non mi abbia male, di certo il mondo ti potrà crollare, ma io sono eterosessuale. E che ci posso fare?